Benvenuto in questa meditazione guidata per il rientro dalle vacanze. Per iniziare trova un luogo tranquillo dove tu possa sederti o sdraiarti comodamente. Chiudi gli occhi e inizia a rilassarti. Porta la tua attenzione al respiro. Inspirando profondamente senti l'aria che entra nei tuoi polmoni, poi espira lentamente rilasciando ogni tensione. Continua a respirare in modo lento e naturale, senza sforzo, lasciando che il tuo corpo si rilassi completamente. Rilassa un muscolo alla volta. Inizia dai tuoi piedi e senti come si rilassano. muovi lentamente la tua attenzione verso le gambe, il bacino e rilassa anche queste parti del corpo, sentendole diventare pesanti e leggere allo stesso tempo. prosegui con il tuo ritmo andando verso l'addome, le spalle, le braccia fino ad arrivare al viso. Prenditi qualche minuto per rilassare tutto il tuo corpo nell'ordine che preferisci. Rilassa ogni parte del tuo corpo, sentendo il peso del rilassamento che si diffonde attraverso di te. lovo pone puoi ue pone 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 Adesso concentrati sullo svuotare la tua mente. Immagina di prendere ogni pensiero uno per uno e di metterlo in una scatola. Chiudi la scatola e spingi la via. Continua a ripetere questa operazione fino a quando la tua mente non sarà vuota. Calma e serena. Il rientro dalle vacanze può essere un momento difficile. Spesso proviamo emozioni contrastanti. Da un lato siamo felici di essere tornati a casa. Ma dall'altro possiamo anche sentire un senso di malinconia per la fine delle vacanze. Tutte queste emozioni sono normali e fanno parte del processo di adattamento al ritorno della routine quotidiana. Per aiutarti a gestire queste emozioni puoi provare alcune tecniche. una di esse è la consapevolezza. Prendi un momento per riflettere su cosa hai apprezzato delle tue vacanze. ricorda i momenti di gioia, di relax, di avventura. Questi ricordi possono darti un senso di gratitudine e ti aiuteranno a mantenere uno stato d'animo positivo. Inoltre considera il fatto che il rientro ti offre l'opportunità di guardare alla tua vita quotidiana da un nuovo punto di vista. Durante le vacanze hai probabilmente sperimentato nuove cose, incontrato nuove persone e allentato la routine. Tutto questo ti ha dato una prospettiva diversa sulla tua vita. Dunque rifletti su cosa hai imparato in questo periodo. Cosa ti ha fatto stare bene? E cosa vorresti portare nella tua routine quotidiana? Che cosa invece vorresti lasciarti alle spalle? Queste riflessioni sono preziose perché ti permettono di comprendere meglio te stesso e ciò che desideri davvero. Infine ricorda che non c'è bisogno di sentirsi in ansia. Non c'è bisogno di affrettarsi a fare cambiamenti radicali nella tua vita. Lascia che queste nuove idee ed energie si sviluppino naturalmente. Puoi iniziare pian piano facendo piccoli passi verso la direzione che desideri per te stesso. Ora prendi un respiro profondo, un respiro rilassante. senti la calma che ti avvolge mentre ti prepari a tornare alla tua vita di oggi. Sarai in grado di affrontare tutto, credimi, con una mente aperta e una nuova prospettiva. Non sarà semplicemente ritornare alla routine, ma sarà un osservare attentamente e capire cosa e come cambiare. Dovrai stare attento per non riaddormentarti mentalmente, senza dimenticarti tutte le cose importanti che vuoi portare e cambiare nella tua vita di tutti i giorni. E con questa consapevolezza, con questa comprensione, puoi aprire lentamente gli occhi e prepararti a continuare la tua giornata, portando con te la saggezza e la serenità che hai trovato durante questa meditazione guidata. Ti auguro un tranquillo ritorno pieno di positività. Grazie per l'ascolto. A presto. Namastè. La storia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.